Sono appena 5 i chilometri che a Padova separano lo storico velodromo Monti dove si sono scritte pagine importanti della pista italiana e la BMX Race Track gestita dai Panther Boys Padova dove ogni giorno all'interno della Parco Brentelle girano centinaia di ragazzi in sella alla propria BMX. In questa realtà grazie all'interesse della presidente dei Panther Boys Padova Ezio Piovesan e alla professionalità di Patrizia Toniolo è nato un vero e proprio laboratorio sperimentale che lega la BMX alla pista. Il BMX dà quelle capacità coordinative, quelle capacità di base che vanno bene in tutte le specialità del ciclismo, in particolar modo nella pista se consideriamo la tecnica di partenza che è molto affine fra l'uno e l'altro. Riusciamo ad aver fatto una cosa un po' sincronizzata fra gli allenamenti che i nostri ragazzi fanno a una pista di BMX e gli allenamenti che fanno qui al velodromo. Abbiamo la collaborazione con il tecnico Bastianello che ci segue da tempo anche nel BMX e che adesso mette tutto se stesso per formare anche questi ragazzi. L'esempio da seguire è quello portato avanti da alcuni anni in Francia, Stati Uniti e Olanda e che sta dando grandi frutti. Basti pensare un nome su tutti, quello dell'olandese Harry Lavreisen, numero uno della velocità su pista che è arrivato a questa disciplina dopo aver iniziato a pedalare su una BMX. È una strada che in altri paesi hanno già aperto e sperimentato e tra l'altro sfruttato con risultati di primissimo livello già da tempo. Noi come d'abitudine arriviamo un po' più lentamente perché siamo ancorati alla nostra grande tradizione e pertanto le novità ci fanno un po' paura, ci fanno un po' timore e in qualche modo le affrontiamo sempre con una certa eccessiva volta e prudenza. Pista e BMX possono essere dei centri di reclutamento per il ciclismo del futuro, visto anche il problema sulla strada della sicurezza? Assolutamente, lo sono e sono fondamentali per lo sviluppo di tutto il movimento. Padova deve avere la capacità di sfruttare questa opportunità che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione con entrambi gli impianti che sono stati rinnovati negli ultimi anni e appunto messi a disposizione della collettività e del movimento regionale. Pertanto è necessario impostare l'attività dei giovani per fare anche il reclutamento proprio partendo da queste eccellenze. Una sinergia, quella cercata e voluta dai Panther Boys Padova che offre una possibilità in più ai ragazzi della società padovana e che potrebbe fare da modello anche per altre realtà. A seguire da vicino i ragazzi della BMX che salgono in pista al velodromo Monti è il tecnico Davide Bastianello a cui spetta il compito di guidarli e di trasmettere loro le nozioni tecniche. Molto stimolante perché lavorare con atleti che non praticano il ciclismo su strada ti dà sempre qualcosa in più. Ogni specialità è un qualcosa in più da imparare e quindi poi da mettere all'interno, da incastrare all'interno dell'attività su strada che di solito si fa e l'attività su pista. Con i Panther Boys c'è una collaborazione che prosegue ormai da anni, un esempio di come si possa fare ciclismo su strada e fuoristrada e in pista. Sì, ormai con Patrizia e Renzo sono un paio d'anni che collaboriamo con i ragazzi per far fare questo tipo di esperienza, uno scambio culturale l'abbiamo chiamato all'inizio. Poi abbiamo visto che effettivamente c'è anche un beneficio da parte dei ragazzi per quanto riguarda l'attività che fanno, la loro prima attività, quindi il BMX. E quindi abbiamo deciso di continuare ogni anno. Adesso programmiamo per il mese di aprile l'inizio di questi lavori. Un gruppo dunque che si arricchisce sempre di nuovi talenti. Sì, tra tutti questi ragazzi che praticano la pista ce n'è sempre qualcuno che balza all'occhio al tecnico della nazionale su pista del reparto velocisti e quindi ecco che diventa molto importante per un atleta che fa BMX, che può essere un atleta che può passare a fare la velocità su pista, avere delle basi tecniche importanti in modo da passare poi dall'altra parte sapendo già fare le cose. Pista e BMX sembrano due mondi lontanissimi, invece cos'hanno in comune? In comune è la bicicletta, su questo non c'è dubbio. Le partenze, la partenza dalla pedana per quanto riguarda il BMX si può lavorare in pista, quindi i lavori di forza massima, le partenze, il tipo di movimento che si fa con il corpo, anche se non è proprio preciso preciso a quello del BMX, però già il fatto di creare dei tempi nel movimento è importante anche per il BMX che effettivamente la partenza si sviluppa poi su dei tempi nel movimento. E quando arrivano in pista questi ragazzi che sono abituati al fuoristrada, su cosa si può lavorare per migliorarli e con quali prospettive? Allora bisogna migliorarli solamente sull'aspetto della guida, della bici da pista, ma quella è una cosa che ormai è di base su tutti gli atleti, soprattutto su quelli che iniziano per la prima volta a fare pista, dall'esordiente, dall'allievo, anche lo junior a volte. La differenza tra loro e gli altri atleti che fanno solo strada e pista è che sono molto più determinati, non hanno paura assolutamente di andare su in balaustra i primi giri e in un attimo riescono ad acquisire il movimento e quelle cose principali che servono poi per utilizzare la bici da pista. Ovvio non fanno dell'attività di gruppo come può essere una prova dell'eliminazione, una corsa a punti o addirittura una medicine molto più complicata. Lavoriamo esclusivamente sugli aspetti delle specialità veloci, perché poi loro ne abbinano a quello che faranno poi con il BMX, però i ragazzi sono molto più scalti, diciamo. Un bel progetto, insomma, che unisce due realtà molto diverse tra loro. Da una parte la storia del ciclismo scritta all'interno del velodromo, dall'altra la freschezza e l'entusiasmo del mondo della BMX. Ma i ragazzi che affrontano le dune della pista di BMX e allo stesso tempo girano in equilibrio sulle curve del velodromo, cosa ne pensano? Beh, sicuramente è più diverso rispetto alla nostra BMX, perché non abbiamo appunto le gobbe, è un circuito lineare e soprattutto abbiamo un solo tipo di curva, quindi a sinistra. E poi rispetto alla BMX c'è molta più pedalata e dobbiamo sicuramente lavorare sulla resistenza, perché il nostro sport è più di velocità e potenza in poco tempo. Questo invece ha diverse discipline e spesso, il più delle volte, c'è bisogno di tanta, tanta resistenza. Velocità e adrenalina. BMX e pista, cosa ti piace di più? Probabilmente l'adrenalina della pista è ineguagliabile, perché ti dà una scarica che sai che in 30 secondi devi riuscire a dare tutto, dare il meglio di te e sperare per il meglio, ecco, per il miglior risultato. Dalle ruote grasse alle ruote più scorrevoli che ci sono, quanto è difficile entrare in pista o quanto è bello? Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, all'inizio avevo un po' paura, perché vedere le ruote piccole della bici da pista faceva un po' impressione, mentre quelle della BMX danno un po' più di sicurezza, diciamo, però pian piano ci si abitua e è bello anche questo. C'è un po' di paura nell'andare sulle curve? Beh, di sicuro c'è sempre un po' quella paura, ma è anche una paura bella che ti fa tenere i piedi per terra e da sana, secondo me. Si gira in tondo invece che sulle dune. Cosa cambia e quanto ti diverti nel farlo? Beh, sulle dune ci si diverte, soprattutto quando c'è o pioggia o anche quando c'è sole si diverte molto ed è una sensazione che quasi tutti dovrebbero provare, ovviamente. Nella pista anche quella è una sensazione molto bella perché in pista si va molto veloci, anche se si è in un rettilino molto dritto e con due curve però si va a velocità molto alte ed è molto bello. Quando hai iniziato a fare BMX avevi mai pensato di poter arrivare anche sulla pista? Sinceramente no, anche perché sono due mondi diversi anche per la pista, infatti BMX con tutte le dune rispetto a quando andare sul dritto è molto diverso e sono felice di avere questa occasione di provare la pista. L'attività portata avanti dai Panther Boys Padova vuole essere dunque da stimolo anche per altre realtà con l'obiettivo non solo di creare atleti polivalenti in grado di emergere nella disciplina che più si addice alle loro caratteristiche ma anche e soprattutto di sommare esperienze preziose che possano servire da guida per il prossimo futuro del ciclismo italiano. Un'opportunità ai ragazzi per eventualmente proseguire nel mondo delle due ruote nel momento nel quale nel mondo del BMX magari non trovassero più la loro situazione, il loro sistema. Ma questi ragazzi qui invece lo fanno per arrivare a dei risultati anche nella pista. Due in particolar modo sono molto motivati per continuare in questa attività. Padova in questo può essere un modello ma quanto è difficile realizzare una cosa del genere, una sinergia del genere? Ma è difficile, non lo è se si ha la volontà di farlo. Io da tempo che perseguo questi obiettivi sono riuscito a parlare con i genitori, sono riuscito a parlare con i ragazzi e a far capire che possono coincidere entrambe le specialità per poter dare loro la possibilità poi di scegliere se continuare con l'una o con l'altra o addirittura di formare delle capacità tecniche che loro hanno acquisito nel BMX e che stanno acquisendo qua perché un domani abbiamo bisogno anche di tecnici e non soltanto di corridori e da questi ragazzi c'è la volontà anche di proseguire poi una volta finite le attività agonistiche nel mondo del ciclismo come tecnici. Quindi un tecnico che sappia molto e approfonditamente per averlo frequentato sia la specialità del BMX sia la specialità di pista potrebbe diventare un tecnico importante anche per il resto del movimento ciclistico. alla prossima Autore dei sorrisi